Buonasera, grazie prima di tutto al pubblico presente e al professor Remo Calzona. Sono molto lieto che l'Accademia Nazionale di San Luca abbia invitato una personale di rilievo come lui per ascoltare le sue considerazioni sul problema della ricostruzione delle aree tra Lazio, Umbra e Marche colpita dal sisma di agosto. In questo modo l'Accademia stessa si inserisce nel dibattito che è sorto sulle modalità in questi mesi, sulle modalità e tempi della ricostruzione e soprattutto sulla ricostituzione delle comunità colpite da questo evento. Questo poi è il problema importante. Occorre ricostruire perché ci vivono comunità. Le comunità non possono essere radicate, devono trovare continuità con i loro luoghi e questo è un problema che ha degli svolti tecnici molto importanti, di cui spero che il professor Calzona ne parli. Facendo riferimento a un modo consueto di dire, Remo Calzona non ha bisogno di presentazioni, ma io alcune cose le voglio dire in pochissimo tempo. è un grande costruttore, ma anche un teorico del costruire e in questo rappresenta e aggiorna e continua nel tempo una tradizione italiana che ha visto nomi importanti che tutti conoscono come Pierluigi Nervi, Riccardo Morandi, Silvano Zorzi. Riccardo Morandi è sulla tradizione di questi precedenti, che lui fonda anche la novità del suo lavoro, ad esempio il passaggio dalla tecnica del cemento armato alla tecnica dell'acciaio, alla quale ha dedicato gli ultimi anni della sua attività, fino a ora. è anche un artista però, nel senso che per lui costruire non è soltanto risolvere un problema di tecnica, ma dare un'espressione a questo processo costruttivo. Il processo costruttivo con le sue opere fa capire che non consiste nell'eligere un edificio oppure nel gettare un ponte fra due rive, ma nel rappresentare questa modalità di costruire come un atto dello spirito. In questo ricollegandosi alla grande lezione che l'architettor Voderna ha dato attraverso una figura ancora di Mies van der Rohe, che appunto considerava il costruire non tanto in quanto tecnica costruttiva che si risolveva in se stesso, ma come tecnica costruttiva che andava oltre le soluzioni proposte e attingeva a un piano espressivo superiore. Ma facciamo adesso un riepilogo brevissimo di alcuni dei terremoti più importanti in Italia da 50 anni in qua. Il Berice nel 68, il Friore nel 76, l'Irpinia nel 90 con Napoli coinvolta, la Basilicata nel 90, nell'80 l'Irpinia ovviamente, l'Umbria nel 97, il Molise nel 2002, l'Aquila nel 2009, l'Emilia nel 2012, l'Umbria, le Marche e il Lazio quest'anno. Sono alcuni dei territori delle città che hanno vissuto questa tragedia e che stanno vivendo ancora in molti casi. Che cosa ci dicono queste esperienze? Ci dicono tre cose secondo me importanti. Io credo che la lezione che fra qualche minuto terraremo Cazzona ci potrà illuminare su questi aspetti. Perché si ripetono tre costanti in tutti questi casi. La fragilità del nostro territorio e del suo patrimonio architettonico. A volte di straordinaria importanza. Il nostro territorio è fragilissimo. Le costruzioni che noi abbiamo sul nostro territorio, alcune delle quali di grande valore artistico, anche quando si tratta di semplici residenze, è veramente qualcosa che noi rischiamo di perdere per sempre. Quindi questa fragilità è qualcosa che noi scopriamo sempre con sorpresa, ma che è una costante appunto del nostro paese. La seconda invariante potremmo dire è la pluralità di modi di ricostruire. Ad esempio il Belice ha ricostruito, rifondando le città come Gibellina a 15 km di distanza. Nel Friuli invece si è deciso di ricostruire le città laddove erano. In altre situazioni come in Umbia si è ricostruito capillarmente edificio per edificio anche nella campagna, in qualche modo lasciando le tracce insidative così come erano. Quindi il nostro paese dimostra di non avere ancora una strategia riconoscibile. Va caso per caso, mentre sarebbe interessante che si pervenisse a una specie di modello interpretativo di ciò che si deve fare subito o dopo, che si possa anche confrontare nei risultati. Oggi abbiamo appunto due casi esemplari come la ricostruzione del Belice e la ricostruzione del Friuli che sono tra di loro veramente commensurabili. Non c'è una misura comune che possa far capire quale di questi modelli è meglio. Se pensate che nel Belice la trasformazione importante non è stata la ricostruzione dei centri, ma la trasformazione dell'agricoltura che prima era di fondo a grano e poi dopo il terremoto è diventato il Belice un territorio coltivato a vigne e che ha cambiato completamente il carattere di questo che aveva avuto per secoli e secoli. Il terzo elemento è l'endemica incapacità di completare gli interventi e questa è la cosa più grave. Nel Belice ancora oggi molti centri ricostruiti mancano di strutture fondamentali per la vita della comunità, per cui la gente se ne va, cerca di abitare dove esistono questi servizi o questi luoghi e questo è secondo me è un problema che il nostro paese deve cominciare a valutare e a risolvere il prima possibile. Prima di dare la parola mi resta da dire una cosa, una curiosità, un interrogativo che mi è venuto pensando a questo pomeriggio. Per quanto io sono riuscito a memorizzare non esiste in Italia nella letteratura e per esempio nell'arte figurativa o nel cinema una rappresentazione corale partecipata, collettiva del terremoto. Non esiste. A mia memoria esiste un quadro molto bello di Guttuso che adesso nel comune di Gibellina ricostruito da Giuseppe Samonà che si chiama La Notte di Gibellina. Poi c'è un'opera drammaturgica di Emilio Sgro, sempre dedicata a questo evento che si chiama Gibella del Martirio, ma non esistono romanzi per esempio paragonabili a quelli che Antonio Pennacchi ha dedicato alla bonifica pontina con Canale Mussolini. Non c'è un epos collettivo che si sia occupato di metabolizzare e di dare una risposta umana alla tragedia del terremoto. È una domanda che mi faccio perché secondo me se ci fosse questa rappresentazione romanzesca o filmica o artistica, probabilmente noi capiremmo meglio quali sono i veri problemi da risolvere. Uno tecnico e qui chiudo con una domanda che rivolgo a Remo Calzona. Per esempio è possibile che si possa ricostruire eventualmente un duomo spaccato a metà o distrutto addirittura ricostruirlo? Sì, ma non è possibile ricostruire un tessuto urbano? Il disegno delle città, per esempio il disegno di Amatrice, quando si vede la parimetria quando era intatta ancora, benché ricostruita nei secoli, è di per sé un capolavoro di cultura insediativa, è un contenitore di infinite memorie ed è quello che bisognerebbe prima di tutto conservare. Le case possono anche cambiare e allora per esempio c'è tutto il problema di una normativa che impedisce proprio di avere quei distacchi che sono diciamo troppo esigui e porterebbe quindi ad alterare completamente uno dei beni più importanti che una cultura insediata riesca a produrre, cioè il disegno del proprio abitare e questo secondo me è uno dei nodi che lasciano, diciamo, aprono domande e chiedono risposte probabilmente difficili. Grazie a Remo Calzona di essere qui e diciamo ascoltiamo quello che ci dirà perché potremmo ricavarne molte indicazioni. Nel passare la parola al professor Calzona, ricordo che il professor Purini ha fatto molto bene a citare la triade Riccardo Morandi, Pierluigi Nervi, Zorzi, anche Musmeci, ma questo dà un connotato ulteriore, dicevo prima, all'uomo di scienza, all'uomo di scienza di cui l'Italia ha avuto grandi maître pensè, addirittura filosofi della scienza, penso all'importanza, al ruolo propositivo che ha avuto un personaggio genovese come Edoardo, Edoardo, benvenuto, ecco, ma la scioltezza anche di come Remo Calzona, come ci accorgeremo, sa rendere esemplari, rappresentative e pacatamente molto accessibili le straordinarie sue intuizioni e tutto questo l'ha potuto fare per anni anche, credo, di militanza e di convivenza con la miglior tradizione della cultura architettonica italiana. Penso al suo rapporto intenso con dei maestri come Carlo Emonino, come ad alcuni personaggi che in qualche modo con cui si è circuitato e ha condiviso, credo, molto di più dell'esperienza operativa e progettuale. Grazie, la parola al professor Calzona.